Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina vegana. Oggi cuciniamo i falafel di fave. Io ho usato quelle secche, le ho fatte ammollare tutta la notte e poi le mandate un attimo, vedete se c'è qualcuno da scartare, e si tritano nei tritatutto aggiungendo due, una volta tritate un po', ci mettete dentro, due spicchi di aglio un po' tagliuzzati, insomma, una cipolla, poi si aggiusta di sale, si aggiunge della curcuma e del curry, e 45 grammi di farina di ceci. Poi eventualmente se fosse troppo compatto si può aggiungere un paio di cucchiai di acqua, io metterò un cucchiaio di olio, perché comunque la ricetta originale prevederebbe che venissero fritti in olio volente. Io, siccome odio un po' la frittura, li farò nella friggitrice ad aria, oppure potete farlo, se non ce l'avete, nel forno. Quindi all'esterno metterò il pangrattato, all'interno quindi metto un po' di olio extravergine d'oliva, perché comunque darà un po' più di consistenza e di sapore. Quindi mettiamo tutto nei tritatutto e prepariamo la pasta. L'impasto, vedete, è molto morbido, abbastanza morbido, insomma, e le pave sono unite belle tritate. Adesso faremo delle piccole palline, al limite per non spostarvi particolarmente le mani potete un attimo infarinarvele, così, con della farina, oppure con della farina di ceci, come preferite. Ho preparato del pangrattato insaporito con del gomasio, le erbe e del sale. Poi noi queste le prepariamo e andrebbero sparate così direttamente nell'olio. Io, come vi ho detto, non amo particolarmente le cose fritte, quindi preparo queste pallette, questi falafel, così li passo nel pangrattato e poi li cuocerò via dall'olio. L'olio è che, se volete, potete farlo tranquillamente. Allora, in quel caso, insomma, non passateli nel pangrattato. La ricetta originale dice di passarli dentro nella farina di ceci. Ecco, una ricetta originale del paese d'origine. Poi io questi che sto preparando li metterò in frigo fino a che non viene ora di cuocerli, insomma. Adesso io li ho preparati almeno un'oretta andrebbero tenuti in frigo, ecco. Il risultato è veramente ottimo, come vedete, la cottura, il forno, in questo caso nella friggetricia d'aria, è bellissima e la grana è molto sottile internamente e sono veramente molto, molto gustose. Volendo, se siete un po' sensibili all'aglio, potete invece di due metterne uno, insomma. Però vi assicuro che sono molto saporite, ma per niente pesanti. Grazie. Grazie. Grazie.